Cotral, sciopero 8 febbraio 2021, tutti gli orari, sciopero dei trasporti 8 febbraio, si fermano anche i bus Cotral. La mobilitazione è su scala nazionale. Possibili disagi anche per gli utenti di bus, metro, tram e linee ferroviarie. Anche i dipendenti Cotral si fermerono per lo sciopero nazionale indetto per il prossimo lunedì 8 febbraio. A proclamare lo stop le organizzazioni sindacali Filt CGL, Fita Cisle, Will Trasporti, UGL 1, SLM, Fast Confs le Faisa Cisal per 4 ore, dalle ore 8 e 30 alle ore 12 e 30. Saranno garantite tutte le corse fino alle ore 8 e 30 e quelle alla ripresa del servizio, dalle ore 12 e 31. Le ragioni dello sciopero nazionale in parallelo con una mobilitazione a livello nazionale aderiranno sempre nella stessa fascia oraria anche dipendenti di bus, metro, tram e linee ferroviarie. Nello specifico per la capitale la Roma Lido, Roma Giardinetti e Roma Nord. Uno sciopero proclamato per il rinnovo del contratto scaduto da tre anni, ma non solo. Durante l'emergenza sanitaria le lavoratrici e i lavoratori del trasporto pubblico hanno continuato a lavorare con grande senso di responsabilità sommando ogni giorno alle criticità proprie di un settore che da anni è in forte difficoltà. Le complessità legate alle norme sulla tutela della salute di lavoratori e utenti hanno spiegato i sindacati il trasporto pubblico locale così non funziona. È giunto il momento di iniziare una vera riforma del settore.